Buongiorno. Nuovo caso di positività a Chiaravalle. A seguito del tracciamento dei contatti con soggetti positivi, nella giornata del 20 ottobre avevo emesso ordinanza di quarantena per un cittadino di Chiaravalle. Questo aveva avuto contatti con un non positivo di Torre di Ruggero. Dobbiamo anche dire che questa persona con grande senso di responsabilità aveva già avviato un isolamento volontario dal giorno 16 ottobre e questo ha fatto sì che potessero diminuire notevolmente i contatti sul territorio di Chiaravalle. Bisogna anche dire che uno dei familiari, studentessa di Chiaravalle, non ha ripreso l'attività didattica in presenza e pertanto le nostre scuole non vengono coinvolte. Ora il Dipartimento di Prevenzione ha avviato già il controllo sanitario, dobbiamo dire che stanno tutti bene, non hanno nessun sintomo e questo ci conforta. Sono tutti asintomatici. Ora bisogna ricostruire l'eventuale tracciamento dei contatti di altri familiari per poterli sottoporre a controllo. Continuo a dire, ad invitare tutti quanti voi che il rischio contagio può notevolmente essere ridotto se noi siamo sempre responsabili. Sono poche le cose da fare, il lavarsi spesso le mani, l'uso della mascherina, evitare i contatti fisici, evitare gli assembramenti. Sono poche le cose da fare, ma sicuramente sono cose che riducono notevolmente il rischio contagio. Ne sta a noi, lo ribadisco, ne sta a noi e possiamo veramente ridurre questo rischio che oggi stiamo vedendo in tutta Italia e in tutto il mondo sta aumentando notevolmente. Grazie e buongiorno.